Innanzitutto buongiorno e benvenuti e prima di cominciare dovrei fare un doveroso ringraziamento ai nostri partner della giornata che sono Parot Security, che molti conoscono come distribuzione piena zeppa di strumenti per proteggere la privacy e la sicurezza, nella persona di Lorenzo Faretra che non solo è stato un nostro socio fondatore, fondatore di Free Circle, ma è anche fondatore di Parot Security e anche socio dell'associazione ERA di protezione civile che troverete qua fuori se volete informarmi di più su apparecchiature radio e di soluzioni open per le radiotrasmissioni. Un altro ringraziamento va a STD Out nella persona di Pietro Alberto Rossi, un amico da anni, occupa di realizzare soluzioni software per aziende. Abbiamo anche Helmi che insieme a STD Out già è il secondo anno che ci appoggia, che ci sostiene, che si occupa di soluzioni tecnologiche a 360 gradi per le aziende. Un doverosissimo ringraziamento va all'Italian Linux Society che senza di questa non sarebbe mai esistito il Linux Day che viene organizzato in tutta Italia dal 2001 e che fa perno praticamente anello di congiunzione tra tutti i Linux User Group come il nostro in tutta Italia. E poi ci sono chi ci sostiene, chi ha creduto in noi, quest'anno anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e come ogni anno sono il comune, l'università e l'ordine degli ingegneri di Palermo. Veniamo a me, chi sta parlando? Sono Marcello, ho detto il vichingo, sono un socio fondatore del Free Circle e mi pregio di essere stato il primo presidente di Free Circle. Sono uno sviluppatore web full stack, sono un utente Linux dal 2011, vuol dire che da quella data ho sostituito Windows da tutti i miei computer, anche quello di mia moglie, è stata dura. Vuol dire anche che dal 2012, mio figlio è nato nel 2012 e non ha mai conosciuto Windows e nessuno mi ha mandato gli assistenti sociali a casa. Sono anche un lanciatore d'ascia, vi dirò più tardi perché. Cos'è l'associazione Free Circle? L'associazione di appassionati del settore tecnologico e informatico ovviamente, è fatta di studenti, di professionisti o di semplici appassionati del settore informatico che promuovono e divulgano le libertà digitali attraverso l'uso e la divulgazione del software libero. In pratica noi abbracciamo il modello collaborativo dell'open source, siamo divulgatori nel nostro piccolo della conoscenza e soprattutto dell'autonomia dai fornitori. Perché? Permettetemi una piccola digressione. Adesso proprio nel giorno d'oggi la tecnologia pervade tutti i momenti della nostra vita, non c'è cosa che non facciamo, quasi, ogni cosa che non facciamo tramite la tecnologia. Quindi possiamo dare all'assunto che chi controlla la tecnologia in pratica controlla le nostre vite di tutti i giorni e anche i nostri lavori che produciamo attraverso i software, per esempio. E per adesso che le slide sono andate un po' così, chi sono gli attori principali? Google, Apple, Amazon, Meta con Facebook, Instagram e Whatsapp che conoscete benissimo, Microsoft, che detengono praticamente la maggior parte dei software e delle infrastrutture e dei servizi proprietari che ci vengono utili nella vita di tutti i giorni. Sottolineo infrastrutture perché queste infrastrutture spesso sono a sostegno di alcuni servizi, anche governativi, che senza queste infrastrutture non avrebbero luogo. E dall'altra parte abbiamo il nostro produttore informatico, la nostra industria tecnologica del mondo, che è la Cina. Ho fatto questo distingo perché comunque queste cinque aziende si dà il caso che sottostanno alle leggi di un solo governo che è quello statunitense. E diciamo che, come è successo, fra parentesi, questo governo potrebbe anche decidere che uno stato isti antipatico è di non far fornire più servizi o di impedire che queste aziende vendano i propri software a quello stato. Dall'altra parte abbiamo la Cina che non ha neanche l'etichetta di governo democratico e in teoria potrebbe fare quello che vuole, impedire di vendere le tecnologie a chi che sia, ma in pratica ancora non l'ha fatto, per fortuna la nostra. Ecco, come dicevo, le diapositive sono andate un po' così. Il free software o le tecnologie libere comunque si contrappongono praticamente alle tecnologie proprietarie con il permesso d'autore piuttosto che il diritto d'autore. Questo permesso d'autore garantisce le libertà digitali che ci permettono praticamente di usare queste tecnologie a nostro piacimento per fare qualsiasi cosa da parte di chiunque, di poter analizzare il progetto e quindi il codice o gli schemi circuitali dell'hardware, di poterli modificare o sbagliato tasto e di poter condividere queste opere. In pratica, in buona sostanza, si promuove con il free software la collaborazione per poter apportare migliorie a questi progetti, si previene l'appropriazione del proprietario di questi progetti tramite queste licenze libertarie e in pratica si sostiene la tecnologia dalla possibilità dell'eventualità di interruzione perché una tecnologia praticamente se viene abbandonato dal principale sviluppatore potrebbe benissimo camminare su gambe di altre persone. Questa tecnologia dove si applica? Ormai dappertutto. Il sistema GNU Linux è praticamente presente sui 500 più potenti computer sulla Terra e sulla quasi totalità dei sistemi IoT. Ovviamente il software libero, i linguaggi di programmazione, gli strumenti anche collaborativi tipo GitHub, GitLab sono su software libero e un'azienda proprietaria come Microsoft che vent'anni fa diceva che il free software era un cancro per la società, adesso è platinum contributor spendendo una barca di soldi e mettendo a disposizione dei dipendenti pagati per lo sviluppo di alcune software per sostenere il kernel. Siamo inclusivi a 360 gradi perché questo lo è sempre stato ma non l'abbiamo mai detto alcuni ci hanno accusato, no voi lo dovete dire perché per esempio l'inclusione delle donne noi abbiamo il ritaggio di una società che è antica e patriarcale questo fa sì che praticamente delle persone appassionate che potrebbero contribuire benissimo alla tecnologia e fare la differenza su alcuni settori non si approcciano neanche alla tecnologia per via di questo retaggio culturale. Quindi noi specificiamo che siamo fautori della diversità ma non solo per quanto riguarda il sesso ma anche per quanto riguarda la provenienza geografica o la religione. Cosa facciamo? Facciamo il Linux Day come quello di oggi, facciamo gli approfondimenti del Linux Day noi invitiamo dopo questa giornata i relatori che verranno qui oggi ad approfondire avranno poco tempo, mezz'ora, tre quarti d'ora o poco più di tempo per parlare in modo divulgativo degli argomenti noi poi li invitiamo in altri piccolissimi eventi a poter parlare anche in modo abbastanza approfondito e più ad ampio respiro in modo da poter essere interattivi con il pubblico. Ci siamo inventati gli under the hood gli under the hood sono una rubrica praticamente di approfondimento tecnico dove spieghiamo le tecnologie, i software, i protocolli sezionandoli proprio con approfondimenti tecnici e creiamo laboratori e anche convegni alle scuole dove tarchetizziamo praticamente i nostri interventi verso gli studenti che hanno indirizzi più o meno tecnici nelle scuole sia per parlare di open source sia per parlare di sicurezza per spiegare come dei dispositivi del genere hanno praticamente una capacità di calcolo che non aveva l'intera NASA quando ha mandato l'uomo sulla luna e l'uso improprio potrebbe portare alcuni inconvenienti diciamolo così. Queste sono foto di alcuni Linux Day questa è la LibreConf di LibreItalia che sostiene LibreOffice nel 2019 questo è il convegno che abbiamo fatto l'anno scorso all'aeronautica militare e questa invece è per dirvi che non siamo da soli come dicevo prima siamo appoggiati e collegati tramite l'ILS ad altri Linux user group d'Italia ma abbiamo buoni contatti anche con Wikimedia Italia che sostiene OpenStreetMap e Wikipedia fra parentesi questo link qua è per i raduni che si faranno in Sicilia nel 2024 e a memoria ricordo che il 14 e il 15 dicembre ce ne sarà uno proprio a Palermo e abbiamo un buon contatto anche con la Free Software Foundation Europe che porta il Free Software in Europa di cui il Francesco Bonanno che è un nostro socio fondatore è il rappresentante locale andiamo anche oltre le nazioni usciamo fuori anche dalla nazione grazie all'ILS saremo presenti anche al FOSDEM che avverrà nel 2025 l'1 e il 2 febbraio un sabato e una domenica e io sono praticamente l'incaricato per organizzare il tiro con l'ascia ovviamente dopo il convegno che si tirerà è un convegno molto interessante perché vengono un sacco veramente un sacco quasi la totalità delle comunità internazionali che sostengono il software libero le tecnologie libere e che dire ci saranno anche dei banchetti espositivi nei quali praticamente ci si può confrontare con delle persone attive in queste community che potranno rispondere alle domande tutto in lingua inglese ovviamente parliamo del tema di oggi ormai le tecnologie che ci facilitano la vita per esempio l'intelligenza artificiale di cui ci parlerà Francesco Leimo tra poco ci è esplosa in questi ultimi anni ma non solo anche i servosistemi a microcontrollore a microprocessore la robotica Elon Musk dice che dentro il 2025 commercializzerà i suoi Optimus generazione 3 con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa a un prezzo di 20-30 mila dollari qualcosa del genere secondo me è fantasia visto e considerato che la robotica ancora non ha sciolto tutti i nodi purtroppo tutte queste tecnologie sono energivore consumano un sacco un sacco di energia che solamente in parte è prodotta da fonti rinnovabili e questo ha causato dei problemi ci sono Google e Amazon che hanno detto beh abbiamo carenza di energia adesso costruiamo delle centrali nucleari Microsoft ha rilanciato veramente io ne vorrei aprire una che è stata chiusa per un incidente nucleare ma sai facendo ritocchi quella possiamo fare i tedeschi sono stati un po' a marcord hanno detto vabbè abbiamo due centrali a carbone perché no le più inquinanti d'Europa le hanno già riaperte ci abbiamo una buona notizia è una brutta l'anidride carbonica aumenta il riscaldamento globale però le piante assorbono l'anidride carbonica restituendoci ossigeno e noi infatti cosa facciamo deforestazione solamente il 55% dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo è assorbito alla stato attuale delle piante perché alla stato attuale perché ogni minuto hanno fatto il conto che un'area grande quanto 40 campi di calcio ogni minuto già 80 campi di calcio praticamente sono andati via di foresta boschiva vengono azzerati in più è stato previsto che entro il 2050 il 60% delle foreste pluriali dell'Amazonia spariranno il riscaldamento globale porta a un cambiamento climatico che ormai è sotto gli occhi di tutti per non farvi spaventare vi ho portato nelle slide solamente gli eventi climatici più importanti accuduti nell'ultimo mese qua abbiamo l'uragano Eileen che si è abbattuta sulla Florida e qua l'uragano Milton a distanza di 15 giorni sempre la Florida qua vedete il meteorologo che trattiene stento le lacrime parlando dei danni che sono stati causati da quest'ultimo uragano si è fatto una stima grossolana dei danni hanno detto che sono arrivati a 91 miliardi di dollari ovviamente è piovuto nel Sahara ma così tanto ma così tanto che si sono formati dei laghi naturali c'è stato l'uragano Oscar a Cuba ma perché non parlare di casa nostra Liguria Emilia Romagna a proposito per gli amanti del calcio la partita Bologna-Milan non si svolgerà oggi a Bologna perché c'è un'allerta meteo hanno paura di un nuovo nubifraggio perché ormai i terreni sono stracolmi d'acqua e quindi qualsiasi pioggia torrenziale avrebbe degli effetti abbastanza poco carini l'abbiamo avuto anche qua in Sicilia perché in terra nostra non farci vedere un bel nubifraggio qua vediamo una signora che ha salvato questo motociclista che è stato portato via dalla corrente di un fiume che si è formato in una strada credo che sia di Catania di Atinai perfetto quindi perché il tema di quest'anno noi in questo panorama ci siamo chiesti se il modello collaborativo delle tecnologie open source possa dare un'ottimizzazione nelle tecnologie esistenti per ridurre il consumo energetico in buona sostanza se ci dà una mano per ridurre il consumo ma farci fare le cose che facciamo tutti i giorni questi sono i nostri contatti e Grazie.